Ciao amici, oggi farò un make up con i prodotti che mi fanno risparmiare tantissimo tempo quando ho premura. Il primo prodotto è la BB Cream, perché la posso passare tranquillamente con le mani senza dover prendere il pennello o la Beauty Blender. Il correttore lo utilizzo sempre, però preferisco metterne uno più leggero in modo che si sfumi più facilmente. Ovviamente quando non avete tempo dimenticatevi il contouring, o almeno io non lo faccio. L'altro dei prodotti che utilizzo e che mi fa risparmiare veramente tantissimo tempo è la tinta labbra, perché io vado a metterla sulle guance e la sfumo, sugli occhi come ombretto e sulle labbra. Tra l'altro, essendo una tinta, mi durerà tutta la giornata. Vado a settare con la cipria, ma questa non rinuncio soprattutto in estate. Vado a mettere anche il mascara. Il mio make up è pronto in meno di 3 minuti. Un bacio!